E' tutta la zona archeologica. Possiamo stare lì a fare traviata e carne. Grazie. 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 Questi cori poi. Il fatto che qui c'era proprio Gavassini anche nel pieno della... Eh sì. La sua moglie abita qui. Sì. Sì. Abbiamo. Ha preso tutto lei contro la residenza. Non lo do la prima.